Grazie innanzitutto al professor Paolo Grossi e all'intero collegio dei giudici costituzionali per aver chiesto all'Accademia Nazionale di San Luca di contribuire a costruire questa formula bellissima di conversazioni d'arte con l'idea che non fossero lezioni paludate quanto piuttosto degli incontri amichevoli ma sul piano della conversazione più pacata, più serena e più distesa. Ma l'ulteriore contributo dato dal professor Paolo Grossi è stato quello di avere la lungimiranza di chiederci in qualche modo di farci portatori di un coinvolgimento complessivo delle tre grandi accademie, quella naturalmente dei lincei per una questione di affinità autoriale. Siamo nel palazzo di Ferdinando Fuga, il suo rapporto con Enri Corsini, con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia abbiamo avuto nella serata inaugurale del 29 settembre un doppio concerto dei due dipartimenti di musica antica e di musica elettronica contemporanea. Per cui tutto questo contribuisce forse per la prima volta a dare conto di questa compresenza e di questa possibilità di lavorare assieme alle tre accademie. Dall'altra parte lo sforzo dell'intero collegio del presidente Paolo Grossi è stato quello anche di aprire il palazzo della consulta. Credo che raramente in questo ha dato un buon contributo il segretario generale, il professor Visconti, proprio perché a partire dalla rara occasione, forse eccezionale, per la prima volta dell'apertura per i 150 anni dell'Unità d'Italia, forse è la prima volta che il palazzo della consulta si apre a un pubblico così diverso, così straordinario per queste conversazioni d'arte. Per cui mi sembra che siano risultati molto importanti non solo per la Corte Costituzionale ma anche per le tre accademie. Detto questo non voglio sottrarre troppo tempo, mi limiterò a presentare con due parole molto succinte il professor Strinati al quale do per primo la parola. Voi sapete che a partire dalla grande tradizione degli storici dell'arte, dopo i grandi da Venturi a Roberto Longhi, gli storici che hanno segnato il Novecento italiano, la cultura storico-artistica romana ha espresso due somme personalità come Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi. Ecco, chi è venuto dopo questi due straordinari interpreti dell'arte italiana e non solo, penso in particolare a Maurizio Calvesi, ha in qualche modo segnato la formazione assieme ad altri, ma forse non compare autorevolezza, ha contribuito a segnare il nuovo corso della storia dell'arte. Ecco, Claudio Strinati è forse il protagonista, l'interprete più sottile dell'ascito culturale della scuola brandiana e della scuola arganiana, e con l'azzardo, tutto suo specifico, di saper contaminare poi la conoscenza storica dall'antico al moderno, ma anche alla contemporaneità. Ricordo in particolare la sua direzione del polo museale che è stata forse per la prima volta segnata da questa compresenza di mostre epocali, penso alla straordinaria mostra su Sebastiano Dal Piombo, ma tante altre mostre che sono state realizzate all'interno di Palazzo Venezia, con la volontà di scoprire anche un nuovo modo di allestire le opere d'arte all'interno delle strutture storiche. Penso anche al suo coinvolgimento, mi pare, da Luca Ronconi e Pierluigi Pizzi, cioè in qualche modo non assegnare, diciamo, con una griff, il modo di esporre l'arte, ma per, in qualche modo, ampliare il senso e la possibilità di comprensione dell'opera d'arte classica, storica, già sedimentata nella cultura, diciamo, collettiva, ma forse non così facilmente arrivata a un pubblico più allargato, e in questo il suo sforzo è stato straordinario, tant'è che è riuscito, appunto, accennavo prima, a contaminare la cultura del contemporaneo, penso a delle strepitose mostre come un giovane scultore, io mi ostino a chiamare giovani scultori, poi mi accorgo sempre che sono grandi, come Alberto Almagno, che è una delle persone sul piano della scultura più importanti della scultura, del percorso della scultura italiana contemporanea, per cui grazie ancora Claudio per questa sua capacità inventiva e per i suoi azzardi. La parola a te, ci parlerà delle opere d'arte nel Palazzo della Consulta.